Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo a Star Wars Autolose, il nuovo Star Wars. Quindi in questo caso se stai riscontrando problemi all'avvio, problemi schermo nero, problemi crash, tutte queste cose qua, bisogna sempre aggiornare i driver obsoleti e fare moltissime modifiche sul nostro computer. Quindi in questo caso andiamo un attimo su gestione dispositivi, quindi tasto destro qua sopra su Start, vai direttamente su gestione dispositivi. Assicuriamoci di non avere nessun triangolino giallo vicino a qualche componente software, tipo anche questo qua delle schede video, la mia scheda grafica. Tasto destro sopra e fai aggiorna driver. Cerca i driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili nel computer. Scegli così il tuo driver, fai avanti e scarichi e installi così il tuo driver. Una volta fatto, dirigiamoci un attimo nella cartella AppData, esegui. Percento, AppData, percento, quindi scrivi qua sopra, esegui. Qua dentro scrivi percento, AppData, percento e fai ok. Entri così nella cartella AppData, va in local e se c'è la cartella di Star Wars Outlaws, tu devi cancellare quella cartella. Ok? Quindi devi cancellare la cartella. Una volta fatto, chiudi un attimo qua. Andiamo direttamente sulle pagine che ti ho lasciato in descrizione, quindi in questo caso ci sono le pagine per NVIDIA, AMD e altri driver per il tuo computer. Per NVIDIA, per scaricare e installare così i tuoi driver NVIDIA, quindi NVIDIA App Beta. NVIDIA App, driver, cerca così un aggiornamento, se devi fare qualche aggiornamento, lo cerchi, oppure driver studio. Poi una volta scaricato, non ti resta che installare così il tuo driver e poi riavviare il tuo computer. Stessa cosa anche con AMD, c'è il programma software Adrenaline. Questo qua non mi permette di installarlo perché non ho una scheda grafica AMD, però è la stessa cosa con NVIDIA. Scarichi e installi così i tuoi driver. Oppure puoi scaricare così i driver del tuo processore, scheda grafica, chipset, cerchi qua il tuo prodotto, lo cerchi, lo scarichi e installi così il tuo driver. E poi non ci resta che passare a Web Installer DirectX and User Runtime per schede grafica tipo per esempio chi supporta DirectX 10, 11, 9 e altri supporti. Quindi scarichiamo così, quindi scarichiamo così DirectX. Facciamo così. Andiamo avanti, tolgo questo, faccio avanti e installo così il driver e faccio fine. Una volta fatto puoi anche cancellare il driver che è scaricato perché ormai è installato, basta. I DirectX SDK, quindi scarica e installa anche quest'altro qua e poi ci rimane il Microsoft Visual C++, anche questo in descrizione. Scende fino a giù, fino a trovare l'architettura per 86 o per 64, quindi tu se hai un sistema operativo a 64 bit installa questo, se hai quella 32 bit installa questo. Io installo questo qua, 64 bit sul mio Windows 11. Ed eccolo qua. E faccio ripristino. Ora, mentre sta installando così il driver, lo metto un attimo a icona, vado direttamente su Epic Games, entro così nella libreria del gioco. Faccio sui tre puntini, gestisci, ecco c'è scritto verifica e verifichiamo così il gioco e lo verifichi. Se no, entra nella cartella app data di nuovo. Local, scende fino a giù, vieni a trovare Epic Games. Cancella così Epic Games Launcher. Una volta fatto, devi rifare il login, quindi devi rimettere le tue credenziali e accedere a Epic Games di nuovo. Per vedere se funziona tutto. Poi una volta scaricato tutti i driver, puoi anche fare una pulizia del disco, quindi vai direttamente su Pulizia Disco. Dove hai installato il gioco. Ed eccoli qua. E fai una pulizia, file di sistema, oppure premi direttamente OK e ti fa la pulizia. Tutti i file selezionati. È necessario riavviare il computer. Quindi, se hai risolto, commenta sotto al video. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lasci like. Per altri problemi ancora, fammelo sapere. Commenta sotto al video. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.